Il voto è stato palese, non segreto e dunque nessuna sorpresa, ma non sono mancati i segnali. Brunella Massenzio continuerà a presiedere il Consiglio Comunale di Matera. Con 18 voti contrari, 9 favorevoli e 8 astenuti, è stata infatti respinta la mozione di sfiducia trasversale presentata dal consigliere Paterino insieme ad altri 8 colleghi. L'esponente dell'Italia dei Valori, finita nel mirino dopo l'espulsione di Paterino dall'IDV e da tutte le commissioni consigliari, è accusata di non essere stata imparziale nel suo ruolo, obbedendo alle disposizioni che arrivavano dalla segreteria provinciale del partito, resta dunque sullo scranno più alto. A votare in suo favore larghe fette del PD, SEL, IDV e PSI. Solo 18 voti però per una maggioranza che un tempo ne poteva contare 32. Anche ieri segnali ad adduce non sono mancati, sullo sfondo infatti resta sempre l'eterno rimpasto in giunta non ancora chiuso. E così, distingo, nel PD sono stati nuovamente all'ordine del giorno. Se il santo chirichiano per eccellenza, Angelo Cotugno, ha votato senza nessun tentennamento la sfiducia, prendendo anche la parola in difesa di Paterino, tutti e quattro i consiglieri comunali della corrente antezza si sono invece astenuti. Astenuto anche Bianchi, sempre santo chirico, così come i due consiglieri riconducibili alla nuova corrente di Restaino. Una posizione che ha contraddistinto anche la lista stella assenti o astenuti i suoi consiglieri. E così i numeri della maggioranza si sono assottigliati fino a giungere a quota 18, ben al di sotto della soglia dei 21 voti. Compatti sul fronte della sfiducia i consiglieri delle civiche di Tosto, mentre nel centro-destra sono fioccate le assenze con il solo Pedicini, Fratelli d'Italia, a votare la sfiducia. Un voto dunque che se da una parte salva la Massenzi o dall'altro lascia ancora tutti sul tavolo i problemi della maggioranza di Aduce, con ben tre correnti del Partito Democratico sempre pronte a voltare le spalle al primo cittadino. E con tutti i nodi del rimpasto ancora da sciogliere.